se penso a me stesso devo dire che mi alzo al mattino sempre con tanti stimoli stimoli di chiaramente a livello familiare per esempio per cercare di trasferire tutto quello che nella mia vita ho imparato cerco di trasferirlo ai miei figli e quindi il mio superare ogni giorno un limite si tratta evolvere e avere per i miei figli un papà che magari gli può trasferire qualcosa di nuovo ogni giorno superare i propri limiti vuol dire evolvere perché il mondo che c'è lì fuori non ti aspetta e lo stimolo grande è quello di voler cogliere quelle opportunità non puoi sperare che ti arrivino così dal cielo ma devi andartene sempre a cogliere e cercare chiaramente di poi mettere in disposizione di chi lavora con me e di chi vive con me mettere in disposizione ciò che ho imparato grazie a tutti grazie a tutti